Ma non era cinque? Magari! Allora, cara mia Casparina, mi sono riscaldato dei tre di una carossa che era mica più grande di un tavolo e quei mangiaversi che erano là in fondo sarà stato mica più grande di due passi di noi Quella! Miracul che parla del 48 del Garibaldi! E se scalda l'eroe della sesta giornata! Cosa? Come la macchia Marche? Come mi ha chiamato? No, 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 ma le tre divento Marche! No, 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 eroe della sesta giornata a mi! A mi! Io avrei voluto vedere lei, sa? Perché io il mio dovere l'ho fatto! Io il passaporto ce l'ho in regola! Mi seri là a combattere per fare l'Italia! Mettermi alto e essere un camor nasconduto nella sversa! Che la ritira, eh! Mi raccomando che la ritira! Ma va bene! Ma va bene! Dicemi per rite che le se scaldanoci! No, no, no! Certi robi si dice neanche per rite, caro la mia Casparina, eh! Mi avrei voluto vedere lei, sì! Con tutti i pali! Che fiucavengiò da tutti i pali! E che pali! Come l'ha detto, prego! Mi... Mi udina gotta! Ah, ecco perché! Mi pareva, eh! Potete prendere! Potete prendere! Eh! Eh! Potete prendere! Quassate prendere! U', E qui? Quassate prendere! E qui? Grazie a tutti